Tre partite casalinghe e due trasferte per le formazioni abruzzesi di Serie D impegnate domani nella sesta giornata di campionato. Classifica alla mano, il match clou si giocherà ad Ascoli tra l'Atletico e l'Aquila. Scontro tra seconda in classifica che il Rete 8 trasmetterà in diretta a TV sul canale 10 del Digitale Terrestre a partire dalle 15. I rosso-blu tornati al successo contro la Fermana sono a caccia del primo acuto esterno della stagione. Pagliari può sorridere dopo il recupero di tutti i suoi ragazzi con Mantini reduci dal turno di squalifica e Giannini ormai al 100% dopo i problemi alla spalla. La capolista Chieti ospiterà l'Isernia nel primo di due incontri casalinghi. Obiettivo consolidare il primato del girone con la terza vittoria consecutiva. Tra i neroverdi mancheranno Balic e Oddo, così il tecnico Giovanni Gnoffo. Sono tutte partite che le puoi rendere facili in funzione di quello che è l'approccio. Mi aspetto una squadra che abbia anche portato della partita di domenica delle esperienze, che possono essere quelle della gestione gara, soprattutto ai 10-15 minuti finali, e continuare su quella traccia che è quella dell'attenzione, dell'umiltà, del sacrificio, dello spirito di squadra. Altrimenti diventa tosta affrontare qualunque tipo di avversario. Prima della gara ad accendere lo Stadio Angelini, lo spettacolo musicale organizzato dalla società con DJ Set è un ospite d'eccezione, il cantautore H7, molto amato dai giovani. Contro l'Ancona per il Teramo ci sarà il debutto stagionale al Bonolis. L'altra buona notizia per il tecnico Pomante riguarda il recupero di Pavone, da escludere invece quello del capitano Pepe. I biancorossi, reduci dal Roboante 4-1 di Sernia, cercheranno di centrare il quinto risultato utile di fila per affacciarsi ai piani alti della classifica. Per l'Avezzano a Termoli sarà emergenza in attacco, senza lo squalificato vantaggiato e l'infortunato Litteri che si è operato alla mano. Pokesci dovrà insomma inventarsi qualche adattamento di ruolo. Il notaresco dopo la sconfitta interna contro l'Atletico Ascoli entra a caccia della prima vittoria stagionale sul terreno della Re Canatese che finora ha collezionato solo sconfitte. Mancherà lo squalificato di Cairano, mentre sul fronte infermeria D'Ascenzio è ancora in fase di recupero e per Di Bartolo si sta valutando giorno per giorno con la decisione che verrà presa solo poco prima della partita.